Il complesso dei lesi di Vercelli si sta preparando. Il complesso dei libri di Vercelli si sta preparando. Il complesso dei libri di Vercelli si sta preparando. Il complesso dei libri di Vercelli si sta preparando. Il complesso dei libri di Vercelli si sta preparando. Il complesso dei libri di Vercelli si sta preparando.